E' buon ragazzi, benvenuti a un nuovo video, oggi ragazzi faremo la solo leggendaria challenge Una challenge che volevo fare perché mi sembra molto molto carina da portare Quindi ragazzi, iniziamo, guardate un attimo che ho detto per la realtà Bello, la realtà è decrescente, ok ragazzi Iniziamo con lo spaghettolo, poi con il corpo e poi con l'ion 3, 2, 1, via Questa qua c'ha i funghetti Ok, ci possono stare dai Soprattutto con il corpo e i funghetti sono molto molto comodi Questa mappa è veramente veramente buona per Spike A me piace un botto sta mappa con Spike Le chest come al solito sono cambiate per una settimana Mamma mia, mamma mia, mamma mia Ma l'ho killato male, anche se sto lagga Non so cosa laggo Il lagga è il mio piacere Regà, regà Mamma mia, mamma mia, due kill Si è rimasto pochissime vita E' il primo Mamma mia, mamma mia, mamma mia Mamma mia E' il mio secondo agendario preferito, Spike È morto, è morto, è morto Volevo farla io Ok Ok Dobbiamo vincerle, non arriva a secondi Vincerle Allora Mortisi, aspetta qua Vedete prima Vedete Si, vedete prima Vedete E niente Devo andare io Allora, qua non è What Eh, se vabbè Come facciamo, regà Ai, 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 ai L'ho colpito, 900 Non li ho colpiti mai Colpito Attenzione Ok, però l'ho ammazzato Può schivarli, può schivarli Ce la posso fare Eh, niente Non ce la farò mai No, ma non può farcela Attenzione, però Aiuto Aiuto Oh, aiuto, regà Aiuto, regà Aiuto, regà E' molto, molto pericoloso Questa cosa Mamma mia Mortisio Ammas Grande Mortisio Troppo forte lui Ed è persa Ed è persa Ed è persa Mannaggia Regà, mannaggia Mannaggia Dai La consideriamo come win Allora, la seconda posizione Dai, sì, sì Consideremo come win Perché se no Non ce la finirò mai Ok Quindi Spike Fatta Corvo Corvo so già che non ci riuscirò Perché Corvo E' il mio leggendario Più odiato Per le skin E' il migliore Anzi no Forse quella di Leon Che sta per uscire E' la migliore Però Non mi piace perché Guarda quanto ci mette da spaccare le casse Con l'aiuto di Penny Vabbè Ovviamente Ma senza l'aiuto di Penny Cioè In singolo fa schifo lui Già, già In due Può dare una mano Perché gli avvelena Fa pochissimo danno Dai vicino Tira dei bei Frecciate Però Non fa mille Cioè Con fronte a Spike E' molto molto più forte Corvo che Spike Cioè L'ho incontrato L'ho svegliato Raga Ve l'ho detto Con Corvo non ci riuscirò mai A parte che c'ho Il compagno scarso Però questi sono dettagli Allora dai Cioè possiamo fare Riproviamo Riproviamo raga Basta arrivare i secondi E ovviamente Non è che possiamo camperare tanto Un po' si Ma non tanto Non vale camper Tipo Tutta la partita Noi speriamo di far kill però Vabbè Anche se non facciamo kill Ok Però L'importante Che Almeno Non Cioè L'importante Che arriviamo a secondi Ma noi dobbiamo camperare Cioè Camperare Allora Possiamo stare tipo qua Cinque minuti Per riprendere vite E poi riandare Eh? Eh? Adè? Chi è che ha paura? Chi è che ha paura? Eh? Chi è che ha paura? Chi è che ha paura adesso? E il Corvetto Ha pochissima vita Questa cosa è molto molto Perché ha pochissima 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 vita E guardate da lontano Quanti danni schifosi Che fa Ma do Raga Ma no Toglio troppo Spike toglie troppo Veramente Veramente Troppo Raga Eh no Ma raga Però Devo dire Che non possiamo fare questo Qua Cosa bella Ecco Raga 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 Buona parte Però lui mi è piaciuto come compagno Quindi io ci rigioco Ma lui non vuole rigiocare Va bene va bene ragazzi Va bene Ce la possiamo fare Ce l'ha Quella è un Ce la dovremmo fare Ma ce l'ha la grado 20 Quindi sarà molto molto difficile Perché dovremmo Scodere molto forte E poi per questa mappa Non ci pensare Manco Perché fa seriamente schifo Che vede in questa mappa Spara questa cassa Oh grande Ti avvengono un attimo la cassa Poi gli vado vicino Boom Boom Non devi sprecare il colpo Genius Però mi piace a me Un botto Spike Ma Il mio leggendario preferito Non è perché Secondo me è anche Il leggendario Più raro Da trovare Oltre A essere il mio leggendario preferito Perché è molto molto difficile Da trovare Infatti è l'ultimo leggendario Che ho trovato Il primo leggendario Che ho trovato È stato Spike Ha 200 coppe Poi lui Ha 2000 coppe Corvo ha 2000 coppe E poi 5000 coppe Ho trovato Leon E poi Sono molto Madò Madò Vi salvo Vi salvo Vi salvo Riga Ce l'abbiamo fatta 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 Mi faccio il team Grande Perfetta Ne abbiamo pure vinta È questa Perfetto E quindi Adesso andiamo subito A farla L'ultima partita Con Leon Ci apriamo anche la casa Ma non troviamo niente Ok Adesso mettiamo Il nostro Cor Il nostro Leon 3 2 1 Andiamo in partita Riga Qua sarà un po' più difficile Però 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 Ce la possiamo fare Ok Riga Siamo con Bador Mortis Tu ve la Ve la Che genio Che genio Che genio Eh riga Devo dire che Ha pochissimità Pure Pure Leon Pure Leon Ha pochissimità Riga ma Ammazza lui O io No io l'ammazzo Se si parla di ammazzare L'ammazzo io Ma come Come ti permetti Come ti permetti Come ti permetti Del corvo schifoso Corvo schifoso È morto È morto E se non meritava La morte Era meritata La morte Ok Ok Ricopriamo vita Ok E se non possiamo più Camperare Perché solo per recuperare vita Ti puoi camperare Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Troppo forti Troppo forti Mi faccio il team No riga No riga Non devo farlo Scappa scappa No non lo fai dare Che genius Che Non lo fai dare Non lo fai dare Non lo fai dare Ma ci muoio secondo me È proprio saltato Lui è saltato Mamma mia Andiamo a prenderci Lui Aiuto Aiuto Mazzola Grande Seconda Questione Fatta Madonna riga Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Attenzione 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 Scontro finale Morti Scontro Mitico O leggendario Mitico O leggendario Legendario Riga Forse questa Vinta del tutto Non è detto Riga Attenzione Può sempre Capovolgersi Mamma mia Attenzione Con che Con Cosa Wow riga Wow 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 Bene ragazzi Spero che vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un piacere Iscrivetevi al canale E ci vediamo Ciao Ciao